Benvenuti su News Per Te. Ad Uomini e Donne, un improvviso sviluppo sul tronista Daniele. È completamente affascinato da lei e pronto a scegliere. Prima di scoprire tutti i dettagli, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Voci di gossip rivelano che Daniele Paudice, recente protagonista maschile del programma, ha rapidamente mostrato un interesse marcato per una delle sue aspiranti conquiste, nonostante sia entrato nello studio di Canale 5 solo alcune settimane fa. Questo comportamento non è sfuggito agli occhi attenti degli spettatori, che già ipotizzano possa essere vicino a fare la sua scelta. Effettivamente, davanti al pubblico e alle telecamere, Daniele e la corteggiatrice hanno evidenziato una sintonia particolare e lui non ha risparmiato elogi nei suoi confronti. Daniele Paudice si è unito al cast di Uomini e Donne come tronista soltanto tre settimane fa. A 33 anni mostra un forte attaccamento per Napoli, la sua città natale, e si è presentato come una persona dalla profondità emotiva, dolce e sensibile, nonostante l'apparente asprezza esteriore. Le speculazioni sui social media sul suo percorso nel programma sono già ferventi, con molti che prevedono un suo chiaro interesse per una specifica corteggiatrice. Alcuni commenti suggeriscono che la sua scelta sia già ovvia. Alla fine sarà lei. Sembra un copione già definito. La preferenza di Daniele per Valentina è stata espressa attraverso complimenti entusiasti. Amo questa ragazza, che combina un carattere mite a una forte personalità, dotata di un'arte comunicativa che non opprime. Possiede una gentilezza e una capacità di mettere a proprio agio. Non vanno più di moda queste persone, ha dichiarato. Resta da vedere se Gaia, un'altra corteggiatrice, saprà catturare il suo interesse quanto Valentina. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.